Musica Oggi abbiamo presentato questo studio che è stato fatto per cui l'abbiamo fatto anche in questa location proprio perché è molto più legata al biogas. Chiaramente l'altra faccia di FIPER è tutto il discorso di filiera bosco legno e in particolare impianti di teleriscaldamento di cui alcuni anche cogenerativi per cui fanno sia calore che produzione di energia elettrica. E al momento invece per quanto riguarda appunto il biogas è fornito il 2-3% della rete nazionale di energia elettrica? Sì, questi sono i dati del biogas, sicuramente potrebbe essere aumentato notevolmente il problema è che adesso bisogna vedere le nuove norme che usciranno e cosa permetteranno di fare. Cosa chiedete al governo? Abbiamo visto dei tavoli di che avete partecipato. Bisognerebbe snellire molto le procedure tenendo poi presente che tanti impianti di biogas agricoli sono molto distanti dalle reti dove passa il metano da poter conferire per cui chiaramente questo bisognerebbe arrivare con i carri bombolai, caricare e sicuramente questo è un grosso. Bisognerebbe poter usare con le comunità delle energie in piccoli ambiti l'energia elettrica o il biometano prodotto o il calore prodotto in queste comunità. Noi oggi parliamo di gas e si intende anche il gas che arriva con i metanodotti estratto dal sottosuolo che non è la stessa cosa invece di un gas da fonte rinnovabile che quindi per sua definizione può essere rinnovato annualmente nei cicli della natura e soprattutto con gli allevamenti anche senza rispettare il ciclo annuale. Quindi è importante perché qua c'è la differenza e il contrasto al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico sta portando a un spopolamento delle aree agricole qui in Piemonte? No, però genera profondi cambiamenti. Noi dobbiamo ripensare ad esempio tutta la politica dei bacini idrici perché i ghiacciai si stanno sciogliendo. Questa è una regione circondata da montagne come tutta la pianura padana e un po' tutta l'Italia con gli appennini. Quindi bisogna ripensare alle scorte idriche che sono a favore dell'agricoltura, delle comunità e soprattutto anche sulla gestione perché abbiamo eventi che sono concentrati. Penso alle piogge autunnali che quindi noi andiamo da un'estate dove abbiamo problema della siccità all'autunno dove abbiamo alluvioni. Questo è un problema reale. A differenza di quanto si possa pensare ci sono dei risparmi sugli impatti in relazione alla CO2 ma anche in relazione ad altri macroinquinanti atmosferici cosa che molto spesso passa in secondo piano e di sicuro gli elementi che più caratterizzano di altri questi risparmi sono quelli legati al fatto di sostituire dell'elettricità prodotta anche da fonti fossili con dell'elettricità prodotta attraverso una fonte rinnovabile. Il GSE svolge un ruolo fondamentale. Da mero gestore degli incentivi è entrato a pieno titolo, ritengo, nella partita della definizione degli strumenti. La nostra collaborazione al governo nella redazione della proposta di piano si è rivelata fondamentale è chiaro che questa collaborazione potrà essere ancora più utile nella fase di raccolta di quelle che sono le istanze degli operatori e anche dell'industria. Il piano costituisce un'occasione fondamentale, una vera e propria sfida per l'economia italiana e penso che in quell'ambito tutti gli strumenti, anche gli incentivanti, possono essere quantomeno pensati. Chiaramente gli incentivi è una materia molto delicata, c'è un trade-off fondamentale tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica e per le biomasse occorre lavorare ovviamente in questa direzione.